Ragazzi finalmente è possibile completare l'evento di Call of Duty Endowment, un aiuto ai veterani, perché come sapete fino a ieri l'ultima sfida era buggata e non era possibile completarlo, a meno che non si aveva il multiplayer oppure gli zombie. Ma finalmente oggi ho messo una patch note per le granate di visione, quindi è possibile completare l'evento. Io avevo già tutto pronto ragazzi fino al primo giorno, però siccome era buggato non potevo portarvelo qui sul canale. Ma finalmente oggi l'ho completato ragazzi e vi porto questo tutorial per completarlo il più velocemente possibile, visto che mancano 7 giorni alla fine di questo evento ragazzi. Allora ragazzi per prima cosa, visto che dovremo completare questo evento su un malloppo che è il modo più facile e più veloce per farlo, vi consiglio di crearvi una classe così. Allora ci faremo una classe con una mitraglietta e un tonfa, perché ragazzi con il tonfa è più veloce a correre su un malloppo visto che la mappa è grande per andare a luttare, completare i contratti eccetera, come vi spiegherò tra poco. E poi ragazzi nel frattempo vi mettete già la granata localizzante, così mentre luttate e completate le altre sfide, se trovate qualche nemico sulla mappa, li tirate alla localizzante e già vi portate avanti per l'ultima sfida. E poi ragazzi nelle specialità vi dovete mettere il rifornimento, così se finite la granata di visione si rigenera da solo e ne avrete sempre nuove e pronte all'uso. Ma adesso andiamo con le sfide ragazzi, allora, nella prima sfida facilissima per questo biglietto da visita dobbiamo semplicemente tirare 10 UAB, quindi ragazzi li andate allo shop, li comprate oppure li trovate luttando, facilissimo. Seconda sfida ragazzi per questo emblema animato dovremo fare 20 assist di operatore, ovvero se un compagno di squadra mette a terra un nemico lo finiamo noi e ci dà l'assist, oppure se lo cracchiamo e poi lo uccide un altro, anche un nemico, ci va bene lo stesso. Terza sfida ragazzi per questa decalcomania grande dovremo schierare 20 Droni Bomba, anche essa facilissima ragazzi su Malloppo, dopo aver fatto un po' di soldi ci dirigiamo a uno shop, li acquistiamo e li tiriamo, anche senza uccidere nessuno ragazzi, ci riconta lo stesso, basta schierarli. Ovviamente ragazzi non tutti gli shop su Malloppo vendono i Droni Bomba, quindi dovete girarne un po' per trovarli. Quarta sfida ragazzi per questo gettone di punti esperienza doppi d'arma dovremo semplicemente tirare 20 casse di protezioni, quindi o le luttiamo in qualche cassa oppure andiamo allo shop e le compriamo ragazzi. Quinta sfida ragazzi per questo adesivo arma dovremo posizionare 4 shop portatili, quindi ragazzi o li luttiamo e li troviamo in qualche cassa oppure il modo più veloce per farlo, sempre su Malloppo, dovremo completare il contratto di sciacallo, perché sempre che lo completiamo ragazzi molte delle volte ci darà lo shop portatile, quindi anche essa ragazzi facilissimo. Sesta sfida ragazzi per questo gettone di punti esperienza doppi dovremo schierare 20 Wav di disturbo, per farlo ci sono due modi ragazzi, sempre su Malloppo, o lo incontriamo in qualche shop ragazzi per acquistarlo e tirarlo, oppure il metodo più veloce ragazzi dovremo completare il contratto di ricercato, quello della corona, perché ogni volta che completerete il contratto ragazzi cade una cassa e in quella cassa vi da sempre 2 Wav di disturbo, quindi ragazzi super super facile. Settima ed ultima sfida ragazzi dovremo individuare 20 nemici con le granate localizzanti, quindi ragazzi sempre su Malloppo mentre girate per fare le altre sfide, se trovate dei nemici li tirate la granata localizzante ed il gioco è fatto ragazzi. E ragazzi funziona anche se mettete un nemico a terra normalmente dopo di tirare la granata localizzante e ve la conta comunque per la sfida. Una volta completate tutte e sette le sfide ragazzi, finalmente sbloccheremo questa mimetica di maestria totalmente gratuita ed animata. Bene ragazzi adesso vi lascio con un partitore con 21 bombe su Rebirth Island, così vedrete come si vede in game questa mimetica, davvero davvero bella. Adesso un bel like al video, fatemi sapere nei commenti se vi sono stato d'aiuto e iscrivetevi per restare sempre aggiornati su Warzone. Noi ci vediamo al prossimo video, ciao ciao. Ciao. Noi ci vediamo al prossimo video. 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 Adietro mi mira. Dove? Eh, è ancora vivo, è ancora vivo. Eh, che era quella? No, era quella una... Sopra, dove non sono ragazzi? Vedi come? Sì, eh, su... Troppo non c'è nessuno, non c'è nessuno. Ah no, qua, parrucca puttana. Dove, dove, qua? Sopra. Ma. Quanti sono sopra? Vabbè, inutile. Non lo so, sicuro uno. Non lo so, dobbiamo muoverci. Ma che è sceso adesso? Allora, qua. La vaffanculo, raga, c'è, non... O sono cieco io, non ci vedo, boh. E ha sdraiato in un angolo, va. Vabbè. Allacchi. Soldato nemico in arrivo. Questi hanno l'angolo sopra, però. Ah sì. Tieni i soldi, tieni i soldi. Possiamo adesso. Grazie. Oh, perché non mi togli la maschera? No. Vabbè. Se... Se sparate, però, fate qualcosa, posso cadere lì in testa. Punto che... Un'altra tira. Un'altra tira. Un'altra tira. Che persone. Vaffan. Sado. Qua è un lì l'ultimo, va. Cingato, è l'ultimo lì. Cingato. Cingato. Go.